I giorni di faggia quando, come d'incanto, nel terzo di cristallo va tempo col pezzo, che sto scontando Mi chiedo di guidare nei giorni di faggia quando, come d'incanto, nel terzo di cristallo va tempo col pezzo, che sto scontando Vuoi andare in piassi, vuoi andare in un posto qualsiasi, che io mi dico in un similiati, che tu stai non hai messo dai cittadini C'è fatto che il cinese mi chiamavano di dire quei capo, te mi fasses, sono i propri detti ed ilto di questi pilin cittadini Mi chiamano vedi, ho preso la coglietta, da adesso poi le nostre frontiere, forse le squadre propiedevamente Mi rumore un piede di pena, largo la tua tv eنc, e mi lasciar riantare e studi 드�ogno treteze Comunicazioni piccoli moroseYE cabirsiniz Ma quindi sto con le g выmbrite con una fita del resto, tipo i vesti che adesso escono tutte le non nasce Sotto la niega, ti glieloco da tinha pottino di divocese, c'è allora ora ti meta, tu capo i cinese La zona di metà, tu gli altri la fa una prima sozione di palesi La vita di equità. Ce n'è forse la meta saremo già da un pezzo in più che gara aperto e parla di onestà. Ce n'è forse la meta sareste già da un pezzo così che allora non è Inoltre c'è quel proprio sottoporto, quello che vi faccio la pesta. Inoltre c'è il proprio sottoporto, il suo sottoporto, i suoi sottoporto, Un instead, un'artista grande, un ortista quando non lo stai baby si nozzò, un ortista che non lo stai A distanza di qualcuno, la Ventus è un villaggio turistico Il cilietta ci sta canalizzando En ogni manfa organizzata un attentato terroristico A distanza di qualcuno, gli f Appazziti vengono a tutti in Italia Our money, un Guardi la ultima il ingrati in Australia Perquieri con questi cilombos accompoli I Sayor E se guardi le persone della mia città ti sono scuola che può fare con bravore e con pensa E se è uno che non sa bene la lingua, non ha nessuna conoscenza E se vuoi certi lavoro con questa facilità ti sentirebbe un'esame di coscienza Puntiamo di un po' senza, di migliorazione, di migliorazione Lo suo percenso della visione, ho preso queste novità E sopporto non ho arrivato in Argentina, non puoi far correre E se vuoi camminare come sono le bosche e dal loro non fanno le chiese Anche gli italiani sono finti da buia, senti che gli appalti erano cinese C'erano un po' senza, amico, non ho dovuto L' amico, stupacolo, 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 stupacolo A pensare che il vita, che nel bosche la metà sarebbe Raffa люди' del sud in una certo vita per far fuori Raffa di onestà, che nel bosche la metà sarebbe già Grazie mille Grazie a tutti.